Sul tuo invece di futuro ci sono tante voci su quello che ti riguarda l'Inter, l'Eventus e Milan. Cosa ci puoi dire su queste voci e se ti fa piacere ovviamente essere accostato a questi grandi club? Fa piacere sicuramente, però io ho un contratto con il Monza e finché sarò qua penserò sulla Monza. Come ho già detto, mancano sei partite e dovremo essere concentrati tutti, dal primo all'ultimo, le stesse partite. Poi dopo, quando finire il campionato, vedremo cosa ci sarà, se ci sarà qualcosa o meglio. Che cosa ti aspetti invece dal derby di lunedì da spettatori? Spero una bella partita e credo che il derby di Milano sia una partita bellissima e speriamo ci si diverta un po'. Grazie. Grazie.